40 anni e non sentirli, tutto pronto a Marglia per la quarantesima edizione della Marcia delle Ville, la manifestazione podistica non competitiva in programma domenica. Per celebrare questo importante traguardo, l'associazione Marciatori Marliesi, presieduta da Ruggero Tadeucci, ha deciso di pubblicare un libro, scritto e curato da Paolo Bottari, ospiti entrambi a Buongiorno con noi. Un volume che racconta la storia dell'evento, nato nel 1977 grazie alla straordinaria passione di cinque componenti della società sportiva Folgor Marglia. Nelle oltre cento pagine del libro si ripercorre l'evoluzione della Marcia, partendo però dalla storia di Marglia e delle Ville che da sempre ne hanno contraddistinto il percorso, rendendolo unico in Italia. L'appuntamento per vivere veramente la quarantesima edizione della Marcia è per domenica. Il traguardo che l'organizzazione vorrebbe tagliare è quello dei 16.000 partecipanti, obiettivo che appare sempre più vicino, siamo già a quota 13.000.